È successo che abbiamo giocato una brutta partita, tecnicamente e caratterialmente. I ragazzi hanno fatto bene i primi 15 minuti, poi dopo il gol abbiamo sbagliato tecnicamente e abbiamo reanimato una squadra che in quel momento era in grossa difficoltà e alla fine ha meritato la vittoria. Credo che questa partita ci debba servire e spero finalmente per capire che per lottare per certi traguardi bisogna avere uno spirito diverso e credo che oggi l'esempio lampante di questo sia stato Tony che ha 36 anni, ha lottato per 95 minuti come un leone in mezzo da due centrali e non si è mai dato per vinto. Credo che questo per i ragazzotti che abbiamo in ogni squadra debba essere un esempio da vedere e soprattutto da capire.